Quante persone che c'hanno? Ok, allora, con i tempi, otto persone. Sono otto persone di Danesi, quindi adesso stanno cercando di vivere. Noi siamo, sono fatto loro, come ci siamo, prendo i palazzi. Sì, ma... Ehm, non vi capiamo, non vi capiamo. Otto persone di Danesi, per ora di posto. Sare, sare. Cap, potete chiedere se avevano delle bombole a bordo e il nome dell'imbarcazione? Vai, un attimo che ce ne sono andate perché stanno a fare i mintaggi. Ce ne sono andate. No, non vi capisco, non vi capisco. No, non vi capisco. Non vi capisco. C'è la via a Circo Mare, a Circo Mare. C'è la via a Circo Mare. ok 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 di meno di meno prova di là ferma così ferma ferma in posizione con l'altitudine 42 gradi 40 centimi nord l'altitudine 30 gradi sono incorto verso il spettimento di unità in fiamme da parte di mezzo a cittadio in serenità prestino massima sezione sicurità e sicurità e sicurità non